L'attesa sta per avvenire per l'audace Cerignola. Nella undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese, i gialloblu allenati da Francesco Marina dopo la bella vittoria ottenuta a Otranto con il punteggio di 5-3, tornano davanti al proprio pubblico ad affrontare la terza forza del campionato, l'Altamura. I gialloblu si presentano a questa sfida con le assenze di Lecce e Matera e lo squalificato Polidori, mentre tutti gli altri sono a disposizione. Anche Ciano e Carmine Marinaro che potrebbero essere le novità importanti di formazione per Altamura, terza forza del campionato. Minora un bilancio assolutamente positivo, 16 vittorie, 9 pareggi ed una sola sconvita per una totale di 57 punti in corsa per la base nazionale della Coppa Italia dopo aver vinto quella regionale partita che da tutto esaurito inizia alle 15 con la direzione arbitrale avvitata al catenese Cotrufo. Mimmo Siena, Speciale News.